È la prima volta in 62 anni che l'Associazione Nazionale del Fante ha dato appuntamento a Ravenna ai suoi membri per lo svolgimento del 31esimo raduno nazionale che si svolgerà dal 24 al 27 maggio. Questo è stato il tema della conferenza stampa che si è svolta questa mattina nella Residenza Comunale. Siamo Ravenna, inizia oggi la parte ufficiale del nostro raduno con questa conferenza stampa per dare informazioni del nostro raduno e si concluderà poi domenica con la parata dei nostri soci Fanti. Abbiamo portato la nostra bandiera dell'Associazione con le decorazioni che vedete, tre medaglie d'oro e due di Savoia e il nostro medagliere nazionale che ha 750 medaglie d'oro, tutte dalla Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo scelto Ravenna per la città che è, per l'ospitalità che i remagnoli sanno dare, l'abbiamo scelta anche perché ci sono due reggimenti di fanteria Ravenna e il 38esimo per noi è caro perché il nostro fondatore della nostra associazione che è avvenuta il 7 luglio 1920, era un capitano e ha combattuto con il 38esimo reggimento della divisione Ravenna nella steppa russa e poi è ritornato ferito e è deceduto qui a Rimini, nell'ospedale militare di Rimini. Quindi per noi c'è anche questa componente. Naturalmente diamo forse qualche fastidio alla città perché insomma muovere un po' di gente così tutt'assieme non è così facile, però noi abbiamo lavorato per dare il meno fastidio possibile e ci attendiamo un'attenzione particolare da parte della popolazione di Ravenna che ringraziamo insieme a tutte le autorità che ci hanno aiutato. Avremo poi, dirò, chi saranno gli ospiti nostri e quindi insomma siamo gratificati a sufficienza. Noi abbiamo una conferenza stampa stamattina, poi oggi pomeriggio abbiamo un incontro sulle tematiche di Ravenna che ci sarà il professor Fanti Giovanni che spiegherà la trafila Garibaldina e nonché il professor e vicepresidente Sautariello Leonardo che parlerà di tutta la storia della fanteria. Poi domattina alle 8.30 avremo appuntamento nella piazza della Resistenza perché andiamo a commemorare tutti i caduti, Camerlone, Piangipane, Russi e 55 martiri. Poi dopo di che, finita questa manifestazione, a pomeriggio abbiamo un incontro in piazza San Francesco con il professor Gabici che illuminerà su Dante il rapporto che ha avuto Dante con la città di Ravenna. Un passo indietro, questa sera finito il tutto andiamo a visitare con i nostri ospiti a Ravenna San Vitale di sera, di notte, che è una cosiddetta bellissima e a quale gradiremmo che ci fosse anche qualcuno della nostra città di Ravenna. Michael Tossi per Ravenna Web TV